Tutto è pronto, partiti! Cobra Silente vuole andare davanti, ma sono più svelti quelli larghi, Sella di Leonessa e Sunrise Spirit con Sunrise che sfonda su Sella di Leonessa che precede Cobra Silente che ha nella sua schiena diretta Angry Kitten a largo scontroso Coda, pane e cioccolato, schema alterato sull'inizio della curva, Sunrise Spirit ha sfondato su Cobra Silente che all'esterno Sella di Leonessa in corda Angry Kitten con di fuori scontroso in coda, in corda, pane e cioccolato Sestetto sufficientemente compatto quando i cavalli iniziano ad allungare, Sunrise Spirit, Sella di Leonessa, Cobra Silente, di fuori scontroso Angry Kitten ed in coda, pane e cioccolato A 600 metri per venire a casa, Sunrise Spirit, Cobra Silente, Sella di Leonessa, largo scontroso, in mezzo ai cavalli Angry Kitten, poi pane e cioccolato L'attacco di Sella di Leonessa che è ora in leggero vantaggio, all'esterno scontroso, poi Angry Kitten che prova il recupero, scontroso che attacca All'interno c'è Angry Kitten, scontroso, Sella di Leonessa, all'interno Angry Kitten, scontroso il leggero vantaggio su Angry Kitten che ci prova, Angry Kitten contro scontroso, a fil di palo scontroso Angry Kitten, Sella di Leonessa Vittoria di Antonio Domenico Micheli per Paolo Pierini, scontroso, anche a 7 in tabella Vince questa prova, bravo Antonio, secondo Angry Kitten, terzo Sella di Leonessa, 7, 1, 6 e l'ordine d'arrivo con l'accoppiata tecnica al traguardo, è tutto